ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale oggi con il cartonato oggi per vedere a che punto siamo perché siamo arrivati all 85 per cento della collezione ma ragazzi oggi ho deciso mi apro tutte le bustine che sono rimaste del box così finiamo il box e vediamo a che punto arriviamo non so quante sono se sono 10 se sono di meno perché le usiamo anche per fare non solo i video che escono qui ma anche per fare video che escono su instagram e video reel che escono i shorts mi sbaglio sempre ragazzi è incredibile gli shorts che escono sempre qui sul canale sempre alle 18 perché come sapete ogni giornale 18 esce uno shorts diciamo che è lo spacchettamento del giorno qua ce ne sono rimaste 3 6 7 8 bustine che ora ci andiamo ad aprire ma prima vi volevo far vedere a che punto sono partiamo subito da un fatto che secondo me quest'anno il cartonato è stato fatto un pochino meglio perché è vero che ancora mancano 104 figurine da andare a mettere all'interno e vedremo quante ne troveremo oggi su queste bustine però solitamente il cartonato finiva diciamo un po più largo invece quest'anno tutto sommato è abbastanza accettabile lo scarto che c'è poi tra la custodia il cartonato vero e proprio lo volevo sfogliare velocemente per con voi perché diciamo che pensavo me ne mancassero meno è perché così a una prima occhiata un primo colpo d'occhio sembrava sicuramente molto più pieno l'album ci manca la numero 2 vediamo voglio vedere insieme a voi se c'è qualche squadra che ho finito ma non penso non penso perché magari penso cioè me ne sarei accorto no dai oppure oppure non me ne sono accorto semplicemente vediamo caglia ce ne mancano 5 dell'empoli attenzione l'empoli forse l'empoli no ok come minimo lo scudetto vediamo di qua no di quali abbiamo tutte poi ovviamente usciranno gli upgrade se questo video lo vedete dopo l'uscita dell'upgrade può essere che il video upgrade ve l'ho fatto uscire prima non lo so perché magari questo lo sto registrando ragazzi e intanto è già uscito upgrade e quindi quello ovviamente ve lo faccio uscire appena arriva gli aggiornamenti ovviamente l'empoli ci manca solo lo scudetto solo lo stemma quindi speriamo che in queste bustine che ci mancano di trovarlo così almeno una squadra l'avremmo finita fiorentina ci manca ancora un po vediamo frosinone frosinone due frosinone due no tre con l'allenatore genoa ce ne mancano veramente tante ragazzi ovviamente voi sotto i commenti fatemi sapere se ormai avete finito la collezione se c'è una squadra che ve ne mancano meno se avete già fatto l'ordine per le mancanti sul sul sito panini se siete riusciti a finirlo invece solo con gli scambi io ormai è tantissimi anni ragazzi che non riesco a finirlo con i soli scambi della juve anche ce ne mancano tante ragazzi sette addirittura vediamo di qua no di quali abbiamo però mamma mia a sette anche della juventus della lazio anche qui cinque sei beh insomma più o meno siamo sulle cinque sei a squadra insomma è abbastanza pensavo pensavo di meno anche qui sono tre quattro cinque lo stemma sette insomma insomma monza siamo messi meglio perché ce ne mancano solo due il napoli attenzione il napoli abbiamo finito il napoli forse vediamo un po vediamo un po di qua vediamo un po di qua no ci manca quara scheria elite beh dai ragazzi in queste bustine che ora ce ne andiamo ad aprire potrebbe uscire potrebbe uscire anzi sai che vi dico che mentre mentre vediamo a che punto siamo andiamo intanto a spacchettare dai vediamo se esce qua sarebbe un contenuto incredibile ragazzi proprio mentre stiamo sfogliando l'album il qr code granata per voi la 58 girata muriel naitan nandez ederson nella numero 58 che simone scuffe e quindi niente da fare arriviamo alla roma e ragazzi voi lo sapete io sono tifoso della roma e ragazzi è incredibile ma vero ma guardate svilare a parte senza nulla togliere a svilare ma guardate gli unici due giocatori che mi mancano di questa squadra sembra incredibile ma sono proprio di bala e lukaku è una cosa incredibile mancano di bala e lukaku vediamo di bala qua e lukaku qua vediamo partiamo dalla bustina che speriamo contenere di bala sarebbe incredibile trovarlo davvero così cioffi l'inter con il gagliardetto della fiorentina quindi questa è la foto scartata scattata prima che giocasse con la fiorentina il qr code e il tonni sanabria ex roma lazovic la numero 334 la 4 e 26 quindi niente da fare che sono cabral e birindelli cabral secondo me però mi mancava quindi bene anzi vediamolo subito in diretta vediamo subito in diretta tanto è qua dietro cabral eccolo qua che ci mancava almeno quello questo era il pacchetto che avevo messo sopra lukaku vediamo se lo troviamo abbiamo elite ciurria tre giocatori del bari e su troll il qr code dell'inter sempre per voi la numero 94 numero 183 serdar manuel locatelli e qua abbiamo perigli e alberto grassi e quindi nemmeno queste bustine ci hanno portato fortuna comunque è veramente incredibile che della roma mi manchino proprio di bala e lukaku salernitana abbiamo detto che abbiamo trovato almeno cabral insomma non c'è nemmeno una squadra di serie a che abbiamo completato e questo è veramente incredibile quando siamo arrivati a meno 104 squadre nemmeno gli sport gli stemmi degli sport abbiamo completato perché ci manca la e3 queste sono quelle che arriveranno con gli upgrade con gli aggiornamenti la più amata insomma queste le sappiamo como e samp che ci mancano per quanto riguarda il calcio femminile quindi nemmeno la sessione di serie a femminile ebay abbiamo abbiamo completato ok ok però di questo ragazzi abbiamo l'album calciatrici completato che non vedo l'ora che mi arrivi e poi ci faremo un video a parte di serie b almeno qualcosa di completato c'è perché partiamo dal bari che è completo il brescia l'abbiamo completato il catanzaro abbiamo completato cittadella completato como completato meno male che c'è un po di serie b ragazzi che mi tira su il morale per alpi salò e lecco anche completate modena e palermo no del palermo ci manca la 5 91 vediamo se si trova qui ragazzi vedo uno stemma che mi sembra della juventus ok poi reggiana bologna chi abbiamo qui il qr code del brescia la 3 e 71 che mettiamo sotto boinen andiamo a vedere queste che sono lo botca gemello e ciao una ciao una e gemello ciao una che ci mancava gemello che ci mancava e a questo punto del torino ci manca solo la schierata la foto di gruppo perché anche qui li abbiamo completate quindi comunque continuiamo a spacchettare bustine dove troviamo tanti figurine che ci mancano anche perché le stiamo aprendo tutte dallo stesso box parma e pisa ancora ci manca qualcosa reggiana e sampa ancora ci manca qualcosa stesso discorso per spezia e su tirol ternana e venezia stesso discorso andiamo a vedere qui la serie c now a che punto siamo qua ci mancano ancora uno scudettino una figurina per quanto riguarda fiorenzuola e gianna erminio il girone b l'abbiamo completato invece è il girone c anche l'abbiamo completato quindi torniamo un attimo indietro torniamo un attimo indietro al girone a dove ce ne mancavano due eccole qui e vediamo se li troviamo in questa bustina vedo una schierata che è del como che forse ci mancava controlliamolo subito insieme e invece no perché il como avevamo appena visto di averlo finito poi abbiamo ternana abbiamo questa misa è la numero due ragazzi e lo il trofeo dello scudetto del campionato si è la numero due questa ci mancava perché me la ricordo che ci mancava la numero due di queste della prima pagina esatto eccola qui qr code del bologna per voi poi abbiamo il brescia abbiamo friend loop abbiamo milan coach della fiorentina e abbiamo giulio maggiore avevo visto il numero 400 e pensavo fosse uno tra di bala e lucavo in realtà no ragazzi ultime tre bustine da oggi voglio essere un po' di parte ma cercate di capirmi mi voglio mettere sulla pagina la pagina e quindi voglio condividere insieme a voi questo momento solenne di andare a completare preghiammete la prima pagina eccola qui quindi tutti i trofei li abbiamo trovati buffon anche che fa parte preghiammete dei trofei ragazzi ultime tre bustine dai oggi voglio essere un po' di parte ma cercate di capirmi mi voglio mettere sulla pagina della roma e andare proprio alla ricerca di di bala e lucavo e quindi questo video si conclude con queste ultime tre bustine del box alla ricerca della 400 e della 402 partiamo da questa terz'ultima bustina me la voglio aprire vediamo un po che dite ce l'apriamo al contrario che dite ci porterà fortuna non lo so proviamo dai apriamocela al contrario ed è perfetto perché giriamo e troviamo svilar che ci manca ottimo ottimo poi abbiamo kiria copulos la 2 e 47 che è rabbio augustin alvarez il codicino per voi e sotto niente perché è tutta serie b e quindi abbiamo pisa scudettini di spal torres entele vispesaro e tre giocatori del ternana e dopo i tre giocatori della ternana ultime due bustine dai ci ha portato bene perché ci abbiamo abbiamo trovato svilara speriamo che in queste altre due proprio nelle ultime due bustine del box proprio che mi ci abbiano fatto proprio allungare il collo per trovare di bala e lucavo o ragazzi almeno uno dei due speriamo cremonese brescia e cadanzaro pisa qr code del palermo biraghi ascoli 4 e 60 quindi abbiamo dosena e alessandro buongiorno signori ultima bustina per il video di oggi 104 figurine non ce le siamo ovviamente trovate ma avevamo solo sette bustine che ci mancavano d'aprire ora faccio il calcolo che magari lo faccio al volo e quindi alla fine vi dico quante me ne mancano secondo me non mi conviene continuare a comprare magari giusto qualche bustina super calciatori perché comunque alla fine è conveniente magari ci potrei fare un pensierino ma alla fine penso che sono più i doppioni che altro quindi cercherò un po di scambiare quello che mi è rimasto i doppioni che mi sono rimasti attenzione perché vedo roma non ho niente a paredes tranquilli tranquilli non è successo niente dico giannis sotto abbiamo la 4 e 32 e sotto dai dai la 400 la 400 niente sono armando ezzo e andrea consigli ora faccio il recap di quelle che mi mancano così vi dico ufficialmente quante me ne mancano dopo aver aperto tutto il box e più o meno una quarantina di bustine singole e quindi ragazzi eccoci qui dopo aver fatto il resoconto delle ultime bustine queste sono quelle che praticamente mi mancano lo state vedendo vi metto lo screen dell'applicazione che ultimamente sto usando anche se sono un po più vecchia a scuola mi piace utilizzare queste applicazioni per tenere il conto perché poi mi dà la percentuale insomma penso sia penso sia sempre utile mi mancano quindi 83 figurine siamo arrivati all'88 per cento della collezione veramente veramente tanto avanti non penso che spacchetterò altre magari box interi poi ovviamente ragazzi fatemi sapere sotto i commenti se invece volete vedere altri spacchettamenti di questa collezione perché se vedo che c'è ancora interesse su questa collezione se volete vedere ancora altri spacchettamenti ragazzi a meno non fa altro che piacere quindi magari ci andiamo a comprare qualche bustina super calciatori e continuiamo a spacchettare con con le bustine super calciatori che secondo me in questo momento sono quelle più convenienti così poi ora magari scambio un po ed un po quando arrivo che me ne mancano 50 solitamente poi io faccio così vado sul sito e me le ordino poi tutte 50 insieme quelle quelle che mi mancano e poi ovviamente faremo un video magari completo conclusivo per chiudere anche questa collezione visto che è durata diversi mesi ce la siamo goduta insieme mese per mese settimana per settimana e quindi magari andiamo a fare poi anche un video conclusivo anche a vedere a che punto siamo delle call machine se siamo riusciti a prenderle tutte se solo alcune insomma magari poi facciamo dei ragionamenti finali detto questo ragazzi a me non resta che ringraziarvi oggi queste me le vado ad attaccare da solo così non vi faccio perdere altro tempo detto questo qualsiasi cosa fatemela sapere sotto nei commenti a me non resta che ringraziarvi augurarvi buona giornata ciao ragazzi grazie 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 grazie